Benvenuti sullo strano canale. Trevor lascia la festa di Natale per andare a recuperare qualcosa nella banca presso la quale lavora. La videocamera di sorveglianza lo inquadra, ma poi inquadra anche qualcun altro. Il peggiore incubo di ogni famiglia è che un membro di essa possa sparire nel nulla per sempre, specie se un velo di omertà arriva a coprire l'intera vicenda. Quando si sa per certo che qualcuno ha l'informazione chiave ma non si fa avanti per liberare tale famiglia, dall'atroce dubbio su che fine abbia fatto lo scomparso. Questa è la storia di Trevor Dilley, nato il 15 agosto 1978 nella contea di Kildare, in Irlanda. I suoi genitori sono Michael e Anne Dilley, che prima di lui hanno avuto altri tre figli. Trevor si iscrive al Waterford Institute of Technology, ma abbandona gli studi dopo due anni per seguire un corso di informatica a Dublino. Nel maggio del 1999 viene assunto dalla Bank of Ireland Asset Management di Lesson Street, sempre a Dublino, per lavorare nel reparto che si occupa, tra le altre cose, della manutenzione della rete dei computer dell'azienda. Arriva la fine dell'anno 2000, giovedì 7 dicembre. Trevor, che adesso ha 22 anni, lascia una festa tra colleghi che precede le ferie natalizie. Il gruppo si è spostato tra diversi locali, finendo per fermarsi in un nightclub di Dublino. Alle tre e mezzo circa del mattino, ovvero quando si è passati all'otto dicembre, Trevor saluta i colleghi ed esce. Tre sono i fattori che lo spingono a recarsi alla banca dove lavora. Piove a dirotto, c'è uno sciopero dei taxi e la banca si trova a pochi minuti di cammino. Ma ha davvero senso che lui si ritrovi nel bel mezzo della notte sul luogo di lavoro? Non tanto. Dobbiamo pensare che Trevor ha sicuramente bevuto, ma non sappiamo quanto. Il fatto che invece di tornare a casa, entri nella banca per non camminare sotto la pioggia, fa venire il dubbio che non sia proprio lucido in quel momento. Dalle indagini condotte in seguito, si scopre che mentre si trova lì, controlla le email. Poi prende un caffè con un collega che sta facendo il turno di notte. Tale collega descriverà Trevor come alticcio, ma non ubriaco fradicio. Prima di andarsene, quando sono da poco passate le 4 del mattino, prende un ombrello lasciato da un membro del personale e se ne va. Mentre torna a casa, lascia un messaggio vocale a un amico nel quale si scusa per non aver risposto a una chiamata arrivata in precedenza e assicura che si sentiranno il giorno dopo. Un messaggio banale, nulla che possa rivelare informazioni vitali a chi dovrà indagare sulla sua scomparsa. Quando nella giornata di venerdì 8 dicembre il ragazzo non si presenta al lavoro, nessuno se ne preoccupa. La sera prima c'è stata la festa e i partecipanti hanno bevuto tanto e dormito poco, quindi si pensa che Trevor abbia preferito rimanere a casa per smaltire i postumi. Solo lunedì 11 la sua assenza fa preoccupare tutti, anche perché nessuno l'ha più sentito dalla festa. Non ci sono stati messaggi o telefonate da parte sua per tutto il fine settimana. I due ragazzi con i quali divide l'appartamento sono fuori città per le vacanze natalizie, altrimenti avrebbero lanciato l'allarme molto prima. Chi l'ha chiamato molte volte è stata la sorella, che si è ritrovata costantemente dirottata alla segreteria telefonica. La donna ha giustificato quel silenzio in ogni modo finché non è diventato così preoccupante da convincerla che c'era qualcosa di sbagliato. Denuncia la scomparsa del fratello e le indagini cominciano. I filmati di sorveglianza, per l'ennesima volta, sono di grande aiuto per stabilire gli ultimi movimenti di chi ha smesso di dare notizie di sé. Alle 3.35 si vede Trevor che entra nella banca dal cancello presente nel retro dell'edificio. Con lui c'è un uomo vestito di nero, abiti e berretto. Dalle immagini si intuisce che i due scambiano qualche parola. Inquietante il fatto che l'uomo sia presente nel filmato, fermo davanti al cancello, già alle 3. Si tratta di un senza tetto? Ma perché ha scelto quel posto per fermarsi? Aspettava Trevor? Comunque sia, Trevor apre il cancello, se lo chiude alle spalle ed entra nella banca. Non dice nulla riguardo al misterioso uomo, al collega che fa il turno di notte. E quando esce dall'edificio, l'uomo in nero non c'è più. Le ultime immagini di Trevor ce le mostra la videocamera collocata nei pressi di un bancomat alle 4.15. Il ragazzo ha aperto l'ombrello e cammina tranquillamente. Qualche istante dopo, la figura di un uomo passa nello stesso punto, seguendo le sue orme. Sembra lo stesso individuo che si trovava davanti al cancello della banca. Purtroppo, la qualità del video non è sufficiente a capire se sia davvero lui. Ma l'abbigliamento e il berretto sembrano simili, se non uguali. Si è portati a credere che si tratti del medesimo uomo, visto che a quell'ora le strade sono pressoché deserte. E ricordiamo che si trovava davanti al cancello, mezz'ora prima che arrivasse Travis. Un atteggiamento sospetto, secondo il parere della polizia. I due avevano un appuntamento? È per quello che Trevor è andato lì invece di andare a casa? La polizia prova a diffondere tali immagini nella speranza che la persona che ha parlato con Trevor davanti al cancello si faccia avanti, ma nessuno si presenta a dare la sua versione degli eventi. Dato che per tornare a casa Trevor ha dovuto attraversare uno dei ponti che si ergono sopra il Grand Canal, il nucleo sommozzatori della polizia si mette all'opera per dragarlo. Si teme che possa essere caduto in acqua o, peggio, che qualcuno lo abbia ucciso e gettato giù dal ponte. Dopo giorni di ricerche non si trova alcun corpo. Questo reca un sollievo momentaneo alla famiglia, ma subito dopo torna la domanda. Dov'è Trevor? Che fine ha fatto? Il prossimo passo è continuare ad analizzare il percorso che il ragazzo ha compiuto per tornare verso casa. A un certo punto, su quella strada, si trova l'edificio dell'ambasciata degli Stati Uniti. Ebbene, in occasione della visita del presidente Clinton il 12 dicembre, l'intera area è stata letteralmente passata al pettine alla ricerca di possibili minacce o di qualsiasi elemento fuori posto o sospetto. Sebbene chi aveva il compito di proteggere il presidente non stesse cercando Trevor o tracce di lui, ha comunque dato involontariamente una mano alle forze dell'ordine che si stavano occupando del caso. D'altro canto, potrebbe anche aver rimosso tracce od oggetti preziosi per le indagini, considerandoli equivoci e quindi potenzialmente pericolosi per la visita. E in quel caso si sarebbero persi indizi, magari fondamentali, per risolvere il mistero. Nel frattempo, a Dublino arriva il fratello Mark per assistere al dragaggio del fiume Dodder, un importante corso d'acqua che passa per il centro di Dublino e che potrebbe aver trasportato il corpo di Trevor lontano dal centro abitato. C'è una domanda che assilla chi lo conosceva e che ha provato a chiamarlo per tutto il fine settimana. Se il telefono ha squillato ed è partita la segreteria telefonica, allora il cellulare non si trovava in acqua. C'è la possibilità che sia stato oggettato da qualche altra parte, all'asciutto ma ben nascosto. La squadra detta la sicurezza del presidente avrebbe dovuto trovarlo, sempre se si trovava nell'area di Dublino. I volantini e le marce per trovare Trevor non si contano più. Si fa di tutto per capire cosa gli sia successo o per ritrovarne almeno il corpo se qualcuno lo ha ucciso. Gli occhi rimangono puntati sull'uomo misterioso che prima sembra aspettare Trevor davanti al cancello e poi, quando esce dalla banca, sembra seguirlo. Il sembra è d'obbligo quando non si hanno certezze. Peccato che la videocamera non abbia registrato l'audio della conversazione tra i due. Come ultimo elemento della vicenda c'è il viaggio in Alaska che Trevor ha fatto una settimana prima di sparire. Secondo le informazioni lasciate trapelare dagli investigatori, Trevor sarebbe andato a trovare una ragazza che, a quanto pare, non l'aveva nemmeno invitato. Si trattava di una relazione a distanza che lei aveva deciso di chiudere contro il parere di lui. In un impeto di disperazione, Trevor avrebbe deciso di partire per cercare di convincerla a tornare insieme. È di questo che si tratta. Trevor è scomparso per una delusione d'amore. Non sembra questa la spiegazione, vista la presenza minacciosa dello strano figuro vestito di nero, la cui identità rimane sconosciuta. Un po' troppo frettolosamente, i detective finiscono col pensare che il ragazzo, depresso per la fine della storia d'amore, quella notte si sia ubriacato e abbia commesso suicidio gettandosi in uno dei corsi d'acqua. Se fosse così, il suo corpo sarebbe stato trovato dalle squadre di ricerca. Gli anni passano senza che nuovi indizi emergano. Nell'agosto del 2017 si comincia a scavare in un'area boschiva nelle vicinanze di una villa, a circa 10 chilometri dal centro di Dublino. Lo si fa in seguito a una telefonata anonima. Chi sta dall'altra parte del telefono racconta che un uomo che conosce, un criminale con una lunga fedina penale, gli ha confessato di aver picchiato a sangue Trevor, di averlo gettato nel bagagliaio della propria auto e di averlo portato alla villa. A quel punto lo ha fatto uscire dall'auto, tenendolo sottotiro con una pistola, e gli ha sparato per sbaglio, uccidendolo. Lo ha quindi seppellito all'interno della proprietà. Sembra una storia che non sta in piedi e quando gli scavi non portano a nulla si pensa che qualcuno si sia divertito a prendere in giro la polizia. Nel 2018 il padre di Trevor punta sul denaro per tentare economicamente le persone che sanno cos'è successo. Nessuno ha risposto al suo appello. Là fuori c'è qualcuno che sa, questo è certo, qualcuno che ha creato una notte perenne nei pensieri dei familiari di Trevor. Finché non si saprà la verità, quella notte piovosa non avrà mai fine nella loro mente. Ci auguriamo che un giorno qualcuno parli e che porti l'alba che tanto desiderano. Ci auguriamo che sia profetica la frase del poeta Khalil Gibran quando dice, per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte. Questo era il video di oggi, grazie mille per averlo guardato. Alla prossima!